Bene, amici telefon.net, un video tridimensionale che sto girando dall'Optimus Pad, ovviamente dovete avere o una tv 3D o degli occhialini per poter vedere questo video, in 3D ovviamente, provo a fare un soggetto vicino, mi allontano, panoramica, fan veloce, mi fermo, riprendo un soggetto vicino, soggetti lontani e provo a avvicinarmi di nuovo. Video che stiamo riprendendo in 3D con LG Optimus Pad.